come siamo vicini oggi ok va bene questa era Ice Queen dei Wittemps questa era Ice Queen dei Wittemps Brillo di luce mia tra l'oleandro e il baobab oh oh ah casino mamma mia che disastro no perché iniziare sempre così difficile tornati sul canale perché ho sempre un occhio per sorte quest'occhio è più piccolo vabbè sono stata daggata sono stata daggata sì mi pare tag chiamato cinefan booktag no sono stata daggata daggata oh questo daggata sia stato per me un mega che bei tutti lissi ma che lunghi qui perché registriamo insieme no chi io e me medesima oggi vi porto un'altra puntata oggi ah basta oh basta ok di scusatemi un attimo io scusatemi ultimamente ho la memoria di un pesce rosso un libro un altro è stato un mese super proficuo dal punto di vista cioè proficuo no super tanti super cosa non lo so me li sono comprati io ci ho anche speso soldi quindi non è proficuo per niente è stato molto dispersivo di denaro ma tanti tanti oddio scusatemi si stava schiattando un corvo dallo sulla finestra l'ho visto e poi è planato via all'ultimo alla domanda chi taghi io taggo sono ancora qui non ci sto non riesco ad andare più giù ok così ciao aspetta mi sa che in realtà me ne sono persa uno questo di sequel allora link per acquistare i video di cui vi ho parlato i video i libri di cui vi ho parlato ci vediamo nel prossimo video